Quattro? Sei ancora qui, Alessandro Quanti punti hai? Cosa? Quanti punti hai? Alla pill Dario smettila, sei un bambino Voglio mangiare la pasta tua, Alessandro La pasta è normalissima, Mario Cioè, veramente Le cose più brutte della vita Sono distrutto Tu non sei in live? No Io sì Aspetta che mi sta lagando Discord Secondo Perché hai fatto entrare il bot? Eh? Che succede? Chi è questo qui? Nanni? 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 Alessandro? L'Uni Toons? Nanni? Eh? No, 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 no Ho la peste Ho la peste Nanni mi fai paura, oh Nanni, Alessandro Mi fai paura Dario? Un cordiale saluto a tutti voi Dal vostro amichevole tizio Qualunque hawaiano di quartiere Ben trovati Ben trovati, ben trovati Come state? Ci troviamo qui a parlare di The Flash L'ultimo film Proprio in senso assoluto Di quello che è stato Il DC Extended Universe Inaugurato Dieci anni fa Con The Man of Steel Di Zack Snyder Dario? Dario smettila Dai Dario Finiccila Non è il tizio È una voce registrata Del tizio qualunque Un cordiale saluto a tutti voi Dal vostro amichevole tizio Qualunque hawaiano di quartiere No, no, raga Che oggi avevano Raga, e sia Victor Laslo Che il tizio qualunque Ho la peste Ho la peste Dai, Dario Dai, smettila Non è vero, ragazzi Sta facendo finta di fare questi versi Dai, ma questo non è manco Un vero Le difese ci sono Io proverai a burnare Farei Suck of the Fire Perché ha il 50% di burn Fake out mi rompe i coglioni Ma questa è poli nella pil Dario Dai, Dario, basta Dario Ma salutami Quanto meno Dario, salutami Tu te pensavi che ormai era finita La storia si ripete ma appena è cominciato Io mi sto tornando fottendo una vita in salita La prossima Dario Dai, e falla finita C'è un bambino No Sole che piccana Vengo da te Presto l'estate è già arrivata Non senti il caldo che c'è Facciamo il pieno poi carichiamo gli altri amici da l'alessandro ciao mario che è successo c'è una sensazione stranissima in testa è come se tutto questo mi avesse stancato Dario vale tutto bene forse non è burnout non capisco più nulla non c'è mi sta stonando forte ma te non era appena uscito no no sto un attimino sto cagando perché hai messo la voce del tizio qualunque prima nanni e dici hai messo la voce del tizio qualunque ha detto che era fancaffè fancaffè c'è anche un accesso del discorso hai messo il tizio qualunque che recensisce the flash ma ci hai provato a parlare chi è questo mario c'è provato a parlare col tizio perché non mi rispondi mario perché non mi rispondi ma chi è questo stai pazzendo c'è provato a parlare col tizio ma è tutto a posto ma che faccia il live poi è ma che che sta succedendo ma che stai dicendo non sto capendo più niente non ho ancora risposto sono stanco qualcuno mi ha succhiato tutta l'energia ma hai bisogno di un ti chiami un terapeuta sono sono in crisi perché ti ho chiesto se ci ha parlato col tizio mi è esagerato hai messo la voce del tizio qualunque di victor laslo ma erano sul discor prima ha detto non mi si sente bene al microfono dopodiché è successo un casino ora è entrato chi mi ha fatto qualcosa ma che dici chi c'era un bordello clamoroso fino a poco fa non so corrisponderti foxy grazie per il secondo mese ciao mario come stai sono confuso dai dai non capisco veramente dai dai questo week ci troviamo a pesaro e a padova trovate tutte le informazioni in descrizione ma chi è questo vi lascio ovviamente in ottime mani e buona giornata ancora ma chi c***o è questi coni si chiamano coni per le orecchie dicono che servano per togliere il cerume dalle orecchie sì lo so ma me ne frega un c***o del cerume oh porta rispetto coglione ma per cosa il cerume dalle orecchie non solo viste strepitose ma anche nuove nozioni importanti riguardo a come si evolve il meteo marziano ecco una eh il meteo marziano ahio non puoi bevi da qua ma poi ti ho fatto bere siamo appena usciti da casa hai bevuto ti vuoi andare a fare il bagno ma questa era Dada? ma quello prima era la Trinfartade che parla del clima alieno Dada era franchino? oh è tornato quello Kimi attenzione 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 che cosa attenzione? attenzione ma che cosa? livelli di groda ai limiti storici groda ai limiti storici? necessità di ripristinare groda e come la ripristino la groda? capsula attenzione capsula inferima quale capsula? ricorderò e comunque anche se non vorrai cosa Tiziano? ti sposerò perché non te l'ho detto mai come fa male cercare e trovarti poco dopo mi ha ammazzato Tiziano Ferro mi ha ammazzato il cervello sei ricaduto nella cocaina? oddio mi ha fatto di mi ha distrutto mi ha distrutto mi ha distrutto per piacere oddio mi fa male la pancia groda ai limiti storici ti porterò comunque anche se non vorrai eh? oddio mi ha cacciato mi hanno cacciato ma avete cacciato? no 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 non entra più live 1 pisciando non posso più entrare a pisciando bug noto? ah è un bug fatemi sbannare chiede a nanni di bug snacks Dario sbannami tiziano Ferro mi ha spaccato il culo ciao no 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 nah